...di bello, diretta e accompagnata dal maestro Valentino Colombari. Presenta I Cieli Immensi Narvano, Salmo numero 8, musica di Benedetto Marcello. Jesu Rex Ammirabilis, mottetto di Giovanni Pierluigi Palestrina. Regina Celi, antifona di Johann Eiching. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Caraffini Lusardi, presenta l'Ave Maria di Arcadelle, qui presso a te di Volca Camadeus Mozart, Ave Maria di Sequevi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.